Questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alle ore 11 nella sala giunta del comune di Agropoli è stato presentato il libro Frate Francesco ad Agropoli, una tradizione che continua. La pubblicazione ripercorre dagli inizi della sua Costituzione, settembre 2013, il cammino sin qui compiuto, descrivendo le numerose iniziative svolte dall'Associazione Spirito Francescano, tutte volte a valorizzare una vicenda importante della cultura e della tradizione religiosa, non leggenda, della città di Agropoli, legata alla presenza di Frate Francesco d'Assisi ad Agropoli del 1222.